L'olio, io l'ho detto già nel convegno, credo che l'olio di quest'area debba avere un futuro fuori da quest'area. Come tutte le proprietà e le qualità che la nostra terra, soprattutto le aree interne della nostra regione hanno, devono essere conosciute fuori, fruite fuori, ma anche poi di ritorno, fruite all'interno, mi spiego meglio. Nel senso che noi dobbiamo far conoscere quello che abbiamo, l'olio di oliva, il territorio, e far sì che la gente venga qui, a gustarlo qui, perché poi questo è il desiderio finale che vogliamo raggiungere con queste attività. E quanto sono importanti queste manifestazioni per promozionare questo prodotto? Io ho i miei dubbi, l'ho detto, sono manifestazioni importanti soprattutto per fare quadrato attorno a un tema, però poi successivamente manca la fase successiva, cioè mi permetta, nella misura in cui stiamo a discutere, ci troviamo tutti d'accordo sui problemi, poi, l'ho detto già in riunione, veniamo meno a quelli che sono poi i progetti per realizzare le attività che riteniamo necessarie. E allora? E allora il problema è molto serio, la regione deve dotarsi di uno strumento legislativo adeguato, deve sostenere iniziative non di attività verso le aree già vantaggiate, già, diciamo così, le grandi aree turistiche, e soprattutto far sì che chi opera all'interno dei territori si sente responsabile di questi territori.